Allora abbiamo visto la fase della liquidazione, se i beni del debitore si stanno liquidando vuol dire che ci saranno anche dei soldi da distribuire evidentemente, e quindi che cosa bisognerà fare? Semplice, ci sono questi soldi e si distribuiscono per i creditori e poi quando tutta la somma è stata distribuita si potrà finalmente chiudere la liquidazione giudiziale. Ma le cose sono più complicate di così, perché sì è vero, sostanzialmente è questo, ma se ci sono crediti contestati, ci sono i corsi giudizi di impugnazione che abbiamo visto, se ci sono somme che sono state accantonate, le distribuiamo o non le distribuiamo? E se ci sono crediti prededucibili, come dobbiamo distribuirli, come dobbiamo considerarli questi crediti e quindi relativi creditori in merito alla distribuzione delle somme? Vi ricordate la storia dei coloro che...